In pratica la tecnica è sempre più o meno quella che si usa con Google Live. Il settimo tasto, di base c'è questa cosa qui, sempre due corde, in questo caso il terzo e la quarta, da pizzicare alternativamente con undice e medio più pollice. Si fa un'incursione al nono tasto, nono, decimo, sette, decimo, come il mignolo. Oppure qui. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.